Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. In un'Italia segnata da una serie di tragedie sconvolgenti, l'annuncio di una notizia improvvisa ha colpito come un fulmine l'opinione pubblica. Fabio Piroli, un uomo di soli 46 anni, aveva progettato un tranquillo weekend di relax, lontano dai pensieri quotidiani. L'obiettivo era godersi le meraviglie del mare, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quel bagno avrebbe portato a un'inesorabile tragedia. La notizia ha squarciato il cuore di chiunque l'abbia letta in redazione, Fabio Piroli è deceduto durante quel bagno in mare. La causa, sospettata essere un annegamento, ha lasciato senza fiato e senza risposte una famiglia che ora si ritrova a dover affrontare l'indicibile. Il tempestivo intervento del 118, con tutte le manovre di rianimazione possibili, ha alimentato speranze che il suo cuore riprendesse a battere, ma il destino ha imposto un'esistenza troppo breve. Lascia alle spalle una moglie vedova e una figlioletta senza più un papà, un vuoto incolmabile che si estende a tutta la comunità. Il nome di Fabio Piroli ha iniziato a diffondersi rapidamente, generando incredulità e dolore tra chiunque lo conoscesse. Era semplicemente andato a trovare uno zio per immergersi nelle acque di fondi, ignaro che quei momenti sarebbero stati gli ultimi della sua vita. Questo racconto toccante è un grido di avvertimento contro l'imprevedibilità della vita e l'importanza di abbracciare ogni momento con gratitudine. Un'opportunità per riflettere sulla fragilità dell'esistenza umana e per unire il cuore di tanti, stringendosi attorno a una famiglia devastata dal dolore. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.